Ascoltiamo ora L'Ultimo dei Moicani, arrangiamento di Davide Boario. L'Ultimo dei Moicani è l'ennesima trasposizione cinematografica del romanzo di James Fenmore Cooper e di sicuro l'opera più conosciuta al grande pubblico. La vicenda, inserita nel contesto storico della guerra anglo-francese del 1757 per il possesso coloniale del nuovo mondo, ruota attorno alla figura di Nathaniel Hawking, regista del film Michael Mann. Le stupende musiche composte da Trevor Jones e Randy Edelman hanno un commetto sonoro di rara efficacia e di lodevole incisività che esalta tanto il tono drammatico, tanto quello epico e romantico della pellicola. Senza tale e intenso soundtrack il film non sarebbe lo stesso. Ecco, il corpo bandistico Città di Lentinara mi propone questo arrangiamento di Davide Boario di indiscutibile forza ed espressività. L'Ultimo dei Moicani. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.